Cori è il nostro metodo classico brut ed è una brindesi alla città di Cori, da cui deriva il nome. È prodotto da uve bellone, raccolto in piccole cassette nella seconda metà di agosto. Il vino quindi fa una seconda fermentazione in bottiglia e sosta sui lieviti per circa due anni. Al naso ha la tipica nota di crosta di pane dolce, quindi nota pasticcera di bignè, sensazione di scorza di agrumi. In bocca ha una nota molto sapida, fresca e persistente. È perfetto per tutto pasto, da antipasti al pesce in forno. Grazie a tutti.